Benissimo, io riparzo la parola a Gianni perché sta male darmi la parola a me stesso. Va bene, allora tu devi fare un intervento, quindi do la parola a Marco per l'intervento in seduta plenaria. Bene, di parte del generale va. In realtà stavo sgranocchiando non una patatina o un cioccolatino. Allora, io intervengo nel dibattito generale e ho tre o quattro cose da dire, un avviso importante per la nostra associazione. Prima di tutto devo dire che noi non siamo riusciti a cogliere l'obiettivo della mozione generale l'anno scorso. Questo però ha un'importanza relativa perché la dinamica della nostra associazione ci ha portato ad un'evoluzione, ad una maturazione. E si possono fare, diciamo, dei bilanci con dei risultati abbastanza interessanti. Adesso non ripropongo i numeri che sono stati già detti, no? I numeri dei video online raccolti in Vita Italia, ben oltre il 2000 in tre anni, per cui voglio dire una vivacità praticamente giornaliera della nostra quantità. C'è da sottolineare che il costo di produzione è stato un costo di produzione veramente minimale. C'è dovuto un costo di produzione per documento che si aggira intorno, inferiore all'euro, cioè intorno all'euro più o meno. Questo è dovuto chiaramente alla nostra struttura che è del tutto particolare. Non siamo riusciti ancora a lanciare quella che noi aspiriamo che possa divenire l'Iberi TV, cioè una web TV di servizio. Di servizio per le associazioni, per i singoli, per le persone associate, per le onlus, per i partiti politici, per le istituzioni. O meglio, abbiamo fatto degli accendi, ci siamo, diciamo, cimentati, no? Con l'opera meritoria di Gianni a settimo municipio di Roma, che comunque rende un servizio a centinaia di milioni di persone. Quindi questa cosa qua è, diciamo, assolutamente significativa, a prescindere poi dopo dal numero delle singole visualizzazioni sul Consiglio Municipale. Perché quella poi dopo è una dinamica assolutamente diversa. Qual è la maturazione che ha fatto l'Iberi TV in questi anni di attività? La maturazione ha ritagliato per l'Iberi TV anche una specificità. La nostra musa ispiratrice all'inizio, no? Cioè all'inizio si chiamava Tibura di Cale. Poi ha avuto questa evoluzione, ha avuto un travaglio, poi si è trasformata in l'Iberi TV. L'Iberi TV è stata lanciata. Ha percorso, diciamo, un periodo tradizionale, no? Di web TV, diciamo, generalista, con un palinzesto, per quanto piccolo poteva essere, però di grande interesse, della trasmissione specifica, di un orario determinato. E poi dopo un'ulteriore maturazione che è venuta a divenire l'anno scorso, che è l'idea della web TV di servizio e su questo, diciamo, abbiamo colto un assegno. Qual è la specificità che secondo me è unica nel panorama italiano, sicuramente? Forse nel panorama europeo, forse abbiamo una specificità talmente unica che è rara, insomma. La specificità rispetto a quello che è la nostra musa ispiratrice. La nostra musa ispiratrice qual è la radio radicale, no? Cioè la radio radicale ha avuto, alcuni decenni fa, l'intuizione di portare quello che accadeva nei palazzi della politica attraverso la registrazione, la messa in onda di documenti integrali e quindi mette a disposizione questi documenti, diciamo, a tutti. Poi, questa ha avuto la sua evoluzione per quanto riguarda i partiti politici, per gli eventi, eccetera, eccetera. Radio radicale, se vive, è perché ci sono alcuni milioni di euro di finanziamenti pubblici assolutamente legittimi, che sono il frutto della convenzione che radio radicale ha per la trasmissione circa il rispettivo per quanto riguarda la trasmissione delle sedute parlamentari e poi alcuni altri milioni di euro, pochi, ma alcuni, ma adesso non saprei quanti, che derivano dall'editoria di partito. Questo permette a Radio Radicale di aver, nel corso del tempo, già dato la possibilità di mettere in piedi le frequenze su tutto il territorio nazionale e di andare in onda con, che cosa? Con la redazione, quindi con anche una scelta editoriale e se vogliamo con un canale di informazione, tutto sommato, nella sua specificità, tutto sommato tradizionale. Qual è la differenza tra Radio Radicale, che è la nostra musa ispiratrice, quindi voglio dire, lungi da noi, dall'avanzata delle critiche, se è la nostra musa ispiratrice, abbiamo voluto dare una specificità alla nostra web tv, e la caratteristica più importante è la volontarietà del servizio. Cioè LibriTV, ad esempio, non ha beni patrimoniali, cioè LibriTV in quanto web tv non possiede nel suo patrimonio neanche una telecamera. Tu dici, ma com'è possibile una cosa del genere? Cioè una tv che non è neanche proprietaria di una telecamera. In realtà è così. In realtà è così perché la filosofia di LibriTV è, chi partecipa a LibriTV lo fa come volontario gratuitamente, si paga le spese e in più si compra pure l'attrezzatura. Allora, tu dici, bello affare, è infatti tutt'altro come affare, cioè è una cosa veramente per appassionati, perché altrimenti... però che cosa produce questa cosa per appassionati? Produce una cosa che nella sua specificità ha un valore politico e sociale molto alto. Innanzitutto tu, i volontari, voglio dire, ecco, la dinamica associativa del LibriTV è una parabola ascendente, ha avuto un suo apice, poi come tutte le dinamiche associative ha avuto una parabola discendente che ha toccato il suo fondo e adesso è arrivata ad una sua stabilità. La parabola discendente, che è una dinamica che riguarda tutte le realtà associative, per fortuna questa parabola discendente non è scesa a tal punto da far sciogliere questa associazione. Quindi ha trovato un suo nocciolo duro e quindi una sua stabilità. Cioè, più giù di così LibriTV non può andare, più giù di così comunque un livello già molto alto, per tutti i dati che abbiamo riassunto prima. Quindi l'esperimento è assolutamente riuscito. Io voglio portarvi l'esempio del valore che porta nella società LibriTV. Ripeto, assolutamente gratuita, non riceve finanziamenti pubblici, non aspira, pur avendo partecipato ad un bando, ma non aspira a finanziamenti pubblici finalizzati, perché partecipare ad un bando significa che c'è un servizio che viene richiesto, non ci sarebbe assolutamente nulla di male che un'associazione come la nostra partecipare a dei bambi pubblici per rendere un servizio dietro, chiaramente, un corrispettivo, un corrispettivo eco. Fermo restando che, come posso dire, la centralità dell'attività di questa web TV è appunto la gratuità, la volontarietà di chi vi partecipa, è l'assoluta libertà. Cioè, chi porta un video, un contributo, prende, va in onda, se ne assume responsabilità, come diceva prima il nostro Presidente, eccetera, eccetera. Voglio portarvi un esempio pratico, forse si capisce meglio, no? Chiaramente per educazione non citerò l'evento, ma è rintracciabile sul nostro archivio. Noi abbiamo avuto recentemente l'opportunità di registrare un evento politico importante, di carattere, diciamo, regionale. Un partito politico che ha presentato una sua importante iniziativa e ci ha dato la possibilità di registrarlo, senza filtri. Era previsto diverse sessioni plenarie e poi tutta una serie di tavoli tematici, quindi di gruppi di lavoro. Una parte di questa giornata di lavori si è svolta in gruppi, con tavoli tematici, che poi sono stati sintetizzati e raccolti in un documento finale che è stato presentato nella sessione plenaria conclusiva. Che cosa è successo in questa dinamica? È successo che i lavori della plenaria sono stati chiaramente di presentazione, di spiegazione dell'iniziativa politica di questo importante partito. Il lavoro importante è stato poi fatto ai tavoli tematici, noi abbiamo avuto la possibilità di registrarne uno, e poi c'era il documento conclusivo. Ecco, il documento conclusivo non è stato assolutamente minimamente all'altezza di quelli della ricchezza, della competenza e della complessità dei vari tavoli tematici. Cioè il documento conclusivo è stato praticamente inadeguato. Ecco il valore sociale che porta la filosofia di libertà. Adesso, se uno volesse andare da questi signori, bussare alla porta e dire scusare, vedete che il documento conclusivo non risponde minimamente alla ricchezza, alla complessità, a tutte le proposte che sono state fatte ai tavoli tematici? C'è l'unico motivo, c'è l'unico appiglio sul quale si potrebbe fondare questa legittima, a mio avviso, contestazione, sarebbe proprio l'integralità della registrazione che è stata fatta e che è stata fatta da una Liberi TV che ha in sé una politica per quanto riguarda la pubblicazione dei documenti, la divulgazione dei documenti, molto ferrea. Cioè noi diamo l'integralità del documento, qualsiasi cosa succeda. Tanto è vero che su tutti i nostri documenti diciamo beh, il massimo che noi possiamo censurare possono essere, cioè voglio dire, non ha nessun senso pubblicare, per esempio, uno si mette il binticino da bestemmiare, per esempio, non c'è proprio nessun senso. Cioè al di là, voglio dire, del rispetto della sensibilità di chi può avere un determinato culto religioso o meno, ma voglio dire, quello, voglio dire, il canone minimo dell'educazione dell'offesa gratuita, magari evitare proprio la querela attraverso l'ingiuria, no? Cioè il massimo è questo, altrimenti noi, come posso dire, in modo assolutamente rigido e ferreo teniamo all'integralità del documento e a metterlo a disposizione così come è venuto. Quante volte è successo? Alcune, non tantissime, ma alcune volte è successo e qualcuno è venuto e dice scusate, ma non è che per caso, siccome io quella volta lì forse avrei detto qualche sciocchezza, potete togliere il video, eccetera, eccetera, scusa. Quando tu fai un intervento pubblico il fatto di farlo, c'è se tu lo fai a casa tua, inviti chi vuoi, ti fai registrare da chi vuoi, ma se lo fai nel pubblico devi anche mettere in conto che qualcuno ti riprende e poi metti a disposizione questo documento. Siccome noi non raccogliamo, posso dire, documenti qualsiasi, ma documenti di un minimo di valore politico, poi questa scelta non è mediata da una redazione, ma è mediata dal volontario stesso che dice questo evento mi interessa, vado, lo registro, quell'altro non mi interessa, non ci vado, non che non lo pubblicheremmo, perché se noi avessimo centinaia o migliaia di volontari con la propria telecamerina, il proprio smartphone in giro per l'Italia, non pubblicheremmo tutto. E sarebbe un contenitore, il nostro, di un valore ancora più ricco rispetto a quello che è. Ma che cosa voglio dire? Cioè, l'esempio plastico sul valore, sulla unicità di Liberi TV, è proprio questo, è l'abbinamento di queste due cose. Abbiamo preso ispirazione da Radio Radicale per cui andare a raccogliere in giro per l'Italia documenti che sono quasi sempre di livello medio-alto, a livello culturale e politico, che però portano il difetto di iniziative che nascono e muoiono nello stesso momento in cui si celebrano e di cui non resta traccia, ma semplicemente perché magari nessuno pensa di portarsi la telecamera e puoi mettere a disposizione questo documento. Altre volte questa cosa non viene fatta, cioè viene omessa, la registrazione non viene fatta di proposito perché magari, non lo so, non mi riferisco a quello che dicevo prima, però magari hai i lavori di un congresso e la cui sintesi finale, magari chi vuole che sia una determinata riuscita, dove invece il dibattito generale ha preso tutt'altra strada, quindi alcune volte magari è voluta questa cosa qua. E quindi questo è il nostro valore, questa è la ragione perché esiste Liberty TV, questa è la ragione attraverso la quale, secondo me, siccome adesso si è consolidata la dinamica associativa, per cui non rischiamo più nella normale parattola discendente, non rischiamo più di sciogliere Liberty TV. Abbiamo creato questo nocciolo duro che può soltanto crescere, non può più, voglio dire, diminuire, dissolversi, quindi vale la pena continuare con e insistere sempre di più verso la web TV di servizio. Semmai poi dopo, quando riusciremo a diventare una web TV di servizio, potremmo accorci il problema anche della, che ne so, di raccogliere finanziamenti, che ne so, attraverso la pubblicità, perché avranno bisogno di personale per indicizzare meglio i nostri documenti. Però vedete, con YouTube non è che poi sia una cosa così difficoltosa, no? Cioè, YouTube già ha creato, che è il nostro canale sul quale carichiamo tutto, e tu, una volta che il video l'hai aperto e scorri praticamente su quella barra di sotto, vedi la figurina piccolina dell'oratore, non è nemmeno la necessità di andare a fare quel lavoro certosino, molto costoso peraltro, di indicizzazione dei documenti, perché tu a quel determinato oratore ci arrivi molto facilmente. Noi il minimo lo facciamo, cioè il minimo è dire, vedete che su questo documento qui parla Tizio, semmai voglio dire potremmo fare un aggiustamento in più che mettere con un titolo di sottopancia il nome di chi sta parlando è giusto per agevolare l'ascoltatore, agevolata l'individuazione da parte dell'ascoltatore, agevolata l'individuazione del oratore. Ma queste sono minuzie tecniche, semmai appunto il salto di qualità potrebbe essere quello della raccolta pubblicitaria in un futuro per fare un lavoro di indicizzazione ancora migliore, ma secondo me in questo momento dobbiamo fare il nostro salto di qualità nel diventare sempre di più web tv di servizio, cioè quel contenitore, quell'aggregatore attraverso il quale l'associazionismo, attraverso il quale i partiti politici, le istituzioni possano incominciare loro a darci dei documenti e a questo punto uno si domanderebbe ma perché io istituzioni, associazioni devo dare a liberi tv il documento che mi registro? Ma non è che sul mio canale YouTube faccio prima. Ecco, ci sono due ragioni affinché un contenitore come i liberi tv è utile. La prima ragione è quella sulla nostra politica di messa a disposizione dei documenti, cioè il documento non viene manipolato, non viene mediato attraverso la mediazione giornalistica che di solito si fa nell'istituzione, tanto è vero che noi facciamo informazione ma non siamo un organo di informazione, questo diciamo. Poi di fatto lo siamo, perché anche questo è informazione, però noi non facciamo l'informazione che è codificata da quella norma abbastanza cretina, possiamo dire così, che tiene in piedi in Italia e in Italia come in pochi paesi nel mondo l'ordine dei giornalisti, cioè da avere il tesserino che una cosa non la puoi fare e poi dopo vai a vedere la qualità del giornalismo italiano, ti vai a vedere i report di Crido Maus negli Stati Uniti piuttosto che il report senza frontiere, reporter senza frontiere lo dico in italiano, in Francia dove ci mettono nella classifica mondiale della libertà di informazione in posti, voglio dire, sicuramente non nei primi 10, nemmeno nei 20, nemmeno nei 30, nemmeno nei primi 50 posti nella classifica mondiale dei paesi corre la più ampia libertà per quanto riguarda l'informazione. E' pure strano, noi siamo un paese che da questo punto di vista è molto normato, il famoso ordine del giornalista perché era una qualità scadente. Abbiamo l'informazione italiana che ancora continua a fare, voglio dire, mattina, mezzo giorno e sera quasi sistematicamente su tutte le reti i famosi, la famosa tecnica del sentidic, no? Cioè esiste proprio una tecnica di marketing molto basilar che è quella dove se tu vuoi comunicare efficacemente che sia un discorso, che sia un messaggio pubblicitario, che sia... Cioè quando vuoi comunicare qualche cosa e lo devi fare attraverso l'articolazione di un ragionamento, tu le cose che vuoi fissare nella mente dell'uditorio le devi mettere o all'inizio o alla fine. In mezzo ci metti tutti i partigiotto che contiene, voglio dire, il ragionamento che ti porta dal punto A al punto B. Allora che cosa succede? la maggior parte delle giornate in Italia sono fatte con la tecnica del sentidic dove tu il panino è confezionato. All'inizio c'è il governo, in mezzo ci stanno le opposizioni e alla fine ci sta la maggioranza. E hai fatto un panino. Allora vabbè ci potremmo dilungare a quel discorso degli ascolti, i dati del centro d'ascolto radio televisivo, il discorso del minutaggio è una cosa diversa della qualità dell'ascolto nel senso che 30 secondi alle 20.03 sul RAI 1 non valgono come 5 minuti alle 3 di notte. È banale dirlo, però purtroppo tutto questo non è codificato e ha anche tutto quando si stia ma che agita tutta una serie di norme affinché sulla cassa tutto bello e tutto perfetto. Poi nei fatti di queste cose non è assolutamente così. diceva prima mi pare più sempre nel suo intervento ma potente arrivare a un certo punto a portarvi pure alla musica ha una sua importanza perché vedete io sono più o meno 4 anni che sto vivendo 4 anni che sto riportando su perché su un canale per YouTube c'è una volta che esisteva un'associazione che era calabria radicale cioè fece un'iniziativa svoluzionare nella regione calabria allora che cosa pensi? una cosa molto semplice senza una telecamera che dice questa autostrada la filmiamo dall'inizio alla fine questi 440 km e poi abbiamo vedete che c'è un problema di banda deve chiudere qualcosa qui così la qualità arriva meglio aspettate soltanto qualche seconda perché l'energia mi sta comunicando che ci sono problemi nella mia voce io ho chiuso una cosa che esisteva a banda quindi adesso vorrebbe andare meglio la cosa qui dicevo spettati i video di questa telecamera fissa che inquadrava solo la strada la faverna che non è giocato c'è proprio niente interessante l'unica cosa interessante che c'erano erano i cantieri le cose le macchine che si stavano davanti i camion allora io sono 4 anni che mi chiedo perché questa roba qui ha fatto 130.000 130.000 visualizzazioni sono più o meno una ventina di video di un quarto d'ora dove c'è una telecamera fissa che percorre un'autostrada vabbè è la Salerno in Reggio Calabria voglio dire però tu ti immagini 130.000 persone stanno lì e si guardano questi video un motivo ci sarà dopo 4 anni ho svelato forse l'Arcano sotto quei video c'è della buona musica appunto quindi forse qualcosa del genere no lo dico già devo sorridere ma alla fine è così perché guarda c'è io siccome poi dopo leggendo i commenti sì c'erano quelli che si accabigliavano sulla Salerno in Reggio sì 4 anni fa era così adesso è meglio ora è peggio non ti capisci guarda indietro però poi ho notato che in mezzo a tutti quei commenti c'erano un sacco di complimenti per la musica allora forse Giuseppe forse ha anche ragione no? perché io ho cercato di capire perché 130.000 persone si sono andate a guardare quei video e in effetti abbiamo montato sotto quei video della buona musica quindi questo qui ci dovrebbe fare un po' riflettere bene io il mio intervento l'ho finito come tutti noi ho dato un contributo alla mozione generale di conseguenza da speaker poi ci vedremo fra poco per la mozione generale con questo do la parola Gianni Colaccione che è l'ultimo intervento del nostro dibattito generale prima però Gianni aspetta guarda un po' l'ordine dei lavori perché per chi ci sta seguendo sono scaduti i termini per quanto riguarda la presentazione di nozioni generali quindi questa mozione generale pregherei Donato di divulgarla via email mi sto scrivendo qualcosa abbiate un attimo di patenza in quanto alle 20 scadono i termini per la presentazione ecco sì un attimo ve lo faccio per cui il testo della mozione generale presentata è l'unica mozione generale presentata adesso entrerà in circolo e alle 20 terminano scadono i termini per la presentazione di emendamenti alle 20 scada anche il termine per la presentazione di eventuali modifiche statutarie do la parola a Gianni Colaccione dopodiché chiederò a Presidente se intende fare una replica e poi andiamo alla parte tecnica di votazione a te la parola Gianni allora grazie grazie anche per gli interventi interessanti il tuo Marco ovviamente anche quello di chi è intervenuto che in qualche modo ha dato anche degli stimoli delle indicazioni e anche nei ringraziamenti che insomma a noi che mi lusingano sempre sono anche degli stimoli ad andare avanti e a proseguire proprio in questa ottica di proseguire andare avanti ma anche per perfezionare ciò che possiamo perfezionare ovviamente io faccio un po' una proposta a tutti coloro che ci seguono ma anche a noi che siamo più coinvolti di provare a migliorare quello che è possibile per quanto riguarda per esempio i nostri i nostri software dovremmo pensare secondo me riflettere se non fosse il caso proprio partendo dall'esperienza dall'esperienza di questo congresso che il nostro regista e segretario Donato sta gestendo ottimamente con un nuovo software se non fosse il caso appunto di comprare qualche software e di cominciare ad abbandonare non dico abbandonare ma insomma a staccarci dall'idea soltanto del software gratuito che spesso diciamo lascia un pochino il tempo che trova per quanto riguarda qualità e potenzialità e affidabilità ovviamente questa cosa si ripercuote para para per quanto riguarda la strumentazione le videocamere ma lì ecco lì vabbè arriviamo a livelli perché purtroppo anche quelle c'è un'affidabilità non professionale e certe volte piantano in asso nel momento più nel momento più più importante se stai a fare un'intervista pensi che sei il microfono invece non è il microfono e saltano degli audio insomma e poi dopo insomma è abbastanza amaro dovremmo cercare per esempio di utilizzare le modalità del crowdfunding per provare a finanziarci per software sicuramente che magari sono costosi e per esempio anche per provare a fare un nostro archivio cioè con non so database per avere un archivio che sia di patrimonio dell'associazione per il momento abbiamo degli archivi un po' frammentati chiunque fa archivia e mette da parte dobbiamo cercare di unificarlo e lasciarlo in patrimonio all'associazione a prescindere da chi poi sarà la seguirà e così via adesso tecnicamente non so io database per me già è un termine che sta diciamo nelle frontiere delle mie conoscenze però insomma ecco una cosa di questo di questo genere e poi ovviamente ecco gli investimenti per quanto riguarda la qualità per esempio anche dei video e se riusciamo appunto partendo dall'intervento di Simone se non sbaglio che ha parlato della musica e di Marco appunto che conferma anche il suo video ma io penso comunque sia che ci sia qualcosa di più oltre che alla musica per fare 130.000 visualizzazioni trovare un modo per poter non aggirare ma poter riprodurre musica d'autore come fanno d'altra parte anche le radio o gli organi di informazione perché gli organi di informazione riescano a riprodurre mettere un sottoporno in apertura di un servizio della musica di VinFloid per dire dibagano preventivamente c'è una convenzione perché sono testate giornalistica dovremmo cercare di approfondire un pochino questi aspetti perché comunque siano in qualche modo facciamo informazione pur non avendo la veste di testata giornalistica fino a dove è possibile inoltrarci nella agibilità del freelance che oggi come oggi in Italia è sempre in ritardo rispetto al resto la nostra diciamo veste di freelance giornalisti freelance non è equiparata a quella del giornalista professionista ma fino a dove possiamo avvicinarci dovremmo cercare di farlo al massimo fermo restando che purtroppo poi ci sono delle differenze io stesso vorrei fare vorrei poter in qualche modo aumentare le mie possibilità per esempio anche con gli accrediti e così via ma non c'è niente da fare come ti chiedono il tesserino allora dice il tesserino come fai sono sei anni sei anni che faccio questa cosa e non conta nulla perché non c'è la dimostrazione della possibilità di dimostrare di essere stati pagati da nessuno o sicuramente non da una testata previamente detta beh insomma fino a dove possiamo arrivare a diciamo avvicinarci alle possibilità che la veste burocratica istituzionalizzata dell'ordine o del giornalista professionista eccetera offre ecco noi dovremmo cercare di arrivarci poi dove poi ovviamente il muro è invalicabile non possiamo fare altrimenti quindi insomma ecco soltanto questo volevo aggiungere e comunque ringraziarvi voi tutti per questa per la realizzazione di questo congresso e per tutto quello che fate perché lo fate lo fate gratuitamente io vabbè ho più tempo perché sono tecnicamente disoccupato e quindi però capisco che chi lavora poi dopo il tempo dovrebbe il resto del tempo per riposarsi dovrebbe utilizzarlo invece lo impiegate quindi è anche più meritevole grazie ancora grazie grazie a te Gianni a questo punto vediamo un po' io direi che di dare lettura alla mozione generale che è pervenuta che poi è la mozione voglio dire di redazione la chiamiamo così a questo punto perché non abbiamo in realtà una regreteria non sono pervenute mozioni altre mozioni generali piuttosto che mozioni particolari la mozione è stata trasmessa a tutti i congressisti di mail alle 20 scade il termine per la presentazione di eventuali eventamenti a questa mozione generale così come alle 20 scade il termine per la presentazione di proposte e modifiche tradutari io do la lettura della mozione generale pervenuta dopodiché passerei alla replica da parte del presidente se vorrà e dopo passiamo alla fase conclusiva che è la fase di voto allora la mozione generale del terzo congresso di pre tv dice mi chiedo scusa se non guardo direttamente in video ma ho un altro monitor sul quale leggo il terzo congresso di pre tv svolto l'anno domenica 26 dicembre 2015 e ringrazia i volontari che hanno prestato il loro tempo a loro opere la loro passione garantendo la continuità di questo progetto che ha raccolto oltre 2200 documenti in tutta italia fra interviste testimonianze rubriche e registrazioni di eventi pubblici negli ultimi tre anni il terzo congresso di liberi tv considera risultato di grande rilievo il raggiungimento di due risultati ottenuti che caratterizzano la specificità e la singolarità di questa web tv nel panorama mediatico italiano l'attività è interamente volontaria e risultati ottenuti con un budget economico inattivo e costituito da pochissime migliaia di euro interamente autofinanziato su tale premesse il terzo congresso i liberi tv ritenendo non completamente attuato alla mozione del secondo congresso volta ad affiancare alla produzione di contenuti giornalistici d'attività di web tv di servizio ripetisce quegli obiettivi prioritari e pienamente condivisi rilanciando integralmente quali propri e attuali l'utilità di un contenitore che raccolga il patrimonio culturale che scaturisce dalle iniziative globali e locali l'importanza di catalogarlo e organizzarlo attraverso un aggregatore capace di catalizzare traffico e dare quindi visibilità a tutte quelle iniziative che fanno fatica a trovare spazio nei canali dell'informazione tradizionale la necessità di esporre l'integralità scusate un secondo allora forse c'è qualche problema nell'audio ah ok la regia mi dice che comunque va bene quindi riprendo la lettura aggregatore capace di catalizzare traffico e dare quindi visibilità a tutte quelle iniziative che fanno fatica a trovare spazio nei canali dell'informazione tradizionale la necessità di esporre l'integralità dei documenti di preservarli o almeno di affiancare l'integralità dei documenti al lavoro redazionale e rende l'implementazione di Liberi TV necessaria consolidando questa realtà editoriale che per la realizzazione del concetto di Web TV di servizio e partecipativa nella quale chiunque abbia la possibilità di diventare produza volontario che raccolga documenti audio e video per mettere la disposizione della comunità del web attraverso Liberi.tv il terzo congresso di Liberi TV impegna e gli organi dirigenti a intraprendere ogni azione necessaria che percorra la via del consolidamento dell'obiettivo della web tv di servizio partecipativa che potrà essere utilizzata da associazioni organizzazioni enti partiti movimenti singoli per la diffusione la catalogazione e la conservazione di tutto quel patrimonio culturale spesso di alta qualità che purtroppo nasce e muore nello stesso momento in cui si celebra molti di questi contenuti a volte non trovano spazio sui canali di informazione tradizionali perché non si pensa neppure di registrati per metterli a disposizione della comunità ecco quindi il ruolo che dovrà avere Liberi TV aggregatore di contenuti culturali salvaguardando nell'integralità e senza mediazione redazionale in tal modo il terzo congresso intende perseguire il fine ultimo dichiarato nel sottotitolo del logo Liberi spazi di parola bene questa era la lettura della mozione generale proposta fra 12 minuti scadono i termini per quanto riguarda la presentazione di emendamenti io chiedo al presidente che qui a fianco a me si è descritta fare una replica voglio aggiungere solo una cosa bene allora ti chiedo subito la parola però la regia mi dice di aspettare un attimo quindi prima di darti la parola aspettiamo un attimo perché forse c'è qualcosa allora posso parlare un attimo a te sospendiamo per un minuto lo streaming ritorniamo in diretta fra uno massimo due minuti grazie grazie a tutti grazie a tutti